Presidente, Taranto città del futuro, Taranto città della morte, morte dovuta all'inquinamento ambientale, morte sul lavoro. Come si può ancora insistere sul dire teniamol'ilva Taranto? Perché è possibile, come succede in tutti gli altri paesi europei, mantenere una siderurgia che rispetta le norme europee e che crea ricchezza, occupazione e lavoro. Ma negli altri paesi europei succede? Qui in Italia dopo dieci decreti salva-ilva siamo punto e da capo? Deve succedere anche in Italia, bisogna che la gestione dell'ilva ritorni in mano ai privati, bisogna che i privati rispettino le regole europee, bisogna accelerare il ritorno della gestione dell'ilva in mano a imprenditori esperti capaci di infilare soldi e investimenti nell'ilva e capaci di gestirla. La Commissione europea ha bacchettato sonoramente l'Italia, vorrà dire anche qualcosa questo, no? Non so, non conosco il dossier, non so quali sono le ragioni per le quali la Commissione europea ha bacchettato l'Italia. A me viene sempre il dubbio, quando vedo agire a Bruxelles, dove ho passato più di vent'anni della mia vita, che le lobby dell'acciaio europee godano nella chiusura dell'ilva di Taranto.